Buonasera a tutti, io sono Luca Discacciati di cambiavalute.ch, se andate sul nostro sito quello che vedremo questa sera è già assolutamente disponibile e nella voce tools proprio di fianco al calcolatore del salario netto troviamo il tool della stagionalità che è uno speciale tool che vi consentirà qualora lo vorrete di vedere tutte quelle che sono le statistiche del cambio euroframico. E che forse magari se potrà venirvi utile potrete utilizzare per fare magari delle scelte di cambio più consapevoli partendo però ovviamente dal presupposto che il tasso di cambio lo sapete meglio di me può essere influenzato da tantissimi fattori che tante volte sono ovviamente fuori dal nostro controllo. Quindi chiaramente questo è un tool che non vuole non vuole prevedere il futuro perché altrimenti sarebbe troppo bello però diciamo che può aiutare attraverso appunto la statistica a fare delle scelte consapevoli appunto. Tutto quello che vedremo questa sera lo potrete assolutamente replicare e se dovesse piacervi appunto vi invito casomai a parlarne durante la pausa caffè con i vostri colleghi. Come ogni webinar che si rispetta avete la possibilità di fare delle domande nella chat di parlare di interagire con me quindi qualora aveste delle domande fatele pure. E appunto prima di entrare nei meandri della stagionalità che ci permetterà appunto di capire come potrebbe muoversi il cambio come potrebbe muoversi il franco svizzero appunto fatemi spiegare che cos'è la stagionalità. Per farlo utilizzerò un esempio che tutti quanti possiamo capire molto molto semplicemente questa che state vedendo in questo momento non è nient'altro che appunto diamo il consenso. Ecco qui non è nient'altro che il grafico con le temperature medie all'interno della città di Milano e che cosa vediamo molto semplicemente come è intuitivo per tutti noi vediamo appunto che per esempio nel mese di gennaio la temperatura media nella città di Milano è intorno ai 2.5 gradi centigradi. Cosa succede? in tutte le giornate d'agosto fa questo risultato ok cosa significa questo significa che qualcuno si è preso la briga tutti i giorni di tutto l'anno di svariati anni indietro nel tempo di prendere di misurare la temperatura appunto nella città di Milano e ne ha fatto una media e ha trovato questo pattern ricorrente cosa significa pattern ricorrente? ci si è accorti che la temperatura e spoiler lo anticipo in qualsiasi fenomeno naturale compreso i cambi sono presenti questo tipo di pattern chiaramente con la temperatura è molto più regolare molto più semplice da individuare ma ci si è accorti sostanzialmente che le temperature hanno un andamento ciclico infatti nel periodo invernale sono tendenzialmente più basse tendono a salire e arrivano ad essere più alte nel periodo estivo dopodiché ricominciano a scendere fino appunto a tornare al periodo invernale nuovamente dove tornano a essere molto molto basse ecco il risultato questo grafico non è nient'altro che il risultato di tutta una serie di dati presi mediati con i quali appunto otteniamo questo disegno questo pattern questa figura ricorrente questo ciclo ok quindi questa è la stagionalità quando all'interno di una serie storica come in questo caso quella della temperatura di Milano si vede una certa regolarità e voi mi direte cosa c'entra la regolarità delle temperature il fatto che di inverno faccia freddo ed estate faccia caldo con il nostro mitico franco svizzero che tutti i mesi ci sudiamo qua in canton ticino c'entra e come perché cosa abbiamo fatto una cambia valute cambia valute fa parte di un gruppo di società tra cui ce ne sono alcune attive nel settore finanziario in una di queste abbiamo appunto creato il forecaster che è questo strumento che fa una cosa molto molto simile a quello che hanno fatto le hanno fatto in questo sito ovvero che si sono presi la briga sostanzialmente di misurare le temperature appunto nella città di Milano molto semplicemente il forecaster che cosa fa il forecaster prende i dati del cambio in questo caso eurofranco adesso ci arriviamo del cambio eurofranco tutti i giorni esattamente come per la temperatura e va a fare appunto una media di tutti i rilevamenti nello stesso giorno il risultato per esempio andando a fare questa media negli ultimi cinque anni è quello che vedete una piccola precisazione prima di partire in questo momento io vi faccio vi farò degli esempi presi appunto dal grafico del cambio eurofranco che è il grafico dello strumento finanziario che si utilizza appunto diciamo sui mercati finanziario quando appunto si vuole parlare di cambi tenete presente che è un po' diverso rispetto a quello a cui siete abituati voi frontalieri perché il cambio eurofranco è l'opposto del cambio che utilizzate voi quando cambiate i vostri soldi che è franco euro infatti in questo momento vi ho portato qui la piattaforma di trading per farvi vedere esattamente quello che è il cambio eurofranco in questo momento è 0 95 ecco come si fa a calcolare il cambio a cui siete abituati voi molto semplicemente 1 diviso 0.95 1 infatti è 0.5 che come sicuramente sapete è più o meno adesso senza entrare troppo nel dettaglio il cambio appunto che c'è in questo preciso istante altra precisazione prima di vedere appunto come cercare di capire dove andrà il cambio e nei prossimi giorni barra prossimi mesi importantissimo capire che siccome noi frontalieri siamo abituati al cambio contrario quando parliamo di cambio eurofranco quando questo grafico scende come in questo caso significa che è il franco svizzero a guadagnare ok quindi siccome il cambio eurofranco è uno strumento finanziario appunto utilizzato in tutto il mondo dobbiamo utilizzare per fare le nostre analisi le nostre previsioni il cambio eurofranco noi qua in canton ticino siamo abituati a utilizzare il cambio franco euro quindi quando vedete per esempio in questo caso il grafico del prezzo scendere significa che è il franco svizzero che sta salendo nei confronti dell'euro ok quindi fatta appunto questa doverosa premessa altrimenti voi vedete un grafico che scende pensate giustamente che stia scendendo il franco svizzero no assolutamente il franco svizzero sta salendo perché sta guadagnando terreno nei confronti dell'euro importantissimo questo quindi vediamo un attimino nello specifico appunto che cosa può fornirci che cosa può darci questo tool appunto che io vi ho messo qui il grafico di google trend per farvi capire è un qualcosa di simile a quello che google trend fa con le ricerche se noi per esempio andiamo a cercare regali di natale in google trend e andiamo a mettere per esempio in italia visto che stiamo utilizzando una parola chiave italiana e andiamo a vedere il periodo degli ultimi scusate degli ultimi 5 anni che cosa vediamo? beh vediamo che google ci dice tutte le volte google trend ci dice tutte le volte in cui le persone hanno iniziato a cercare la parola regali di natale e ci accorgiamo ovviamente che abbiamo un picco di ricerche ovviamente all'inizio di dicembre ma le ricerche già cominciano il ottobre novembre e insomma la fase avanzata di novembre esattamente la stessa cosa la facciamo noi con il forecaster in questo caso che cosa state vedendo? state vedendo la media dell'andamento del cambio eurofranco negli ultimi 5 anni ok? lo possiamo vedere appunto a 5 anni possiamo addirittura andare indietro nel tempo e far fare al software una media degli anni anche precedenti quindi possiamo per esempio vedere come si è comportato mediamente negli ultimi 7 anni e possiamo vedere anche come si è comportato mediamente negli ultimi 10 anni qual è l'obiettivo appunto di questo software? qual è l'obiettivo di questo tipo di studio? è cercare di capire se esistono dei periodi durante l'anno delle specifiche settimane degli specifici mesi dei periodi magari anche più lunghi dove il cambio eurofranco si comporta in un modo ricorrente e nello specifico andiamo a vedere torniamo un attimino sulla piattaforma e che cosa che cosa vediamo? vediamo per esempio che mediamente negli ultimi 5 anni vediamo che il cambio eurofranco a partire dal periodo più o meno di maggio ha avuto una fase di discesa quindi lo ripeto per chiarezza il franco svizzero è salito proprio nel periodo a partire da maggio fino ad arrivare alla metà di agosto vedete che è palese il trend ok? in questi mesi negli ultimi 5 anni facendo la media delle singole giornate e delle singole rilevazioni del cambio eurofranco vediamo che c'è una specifica tendenza ribassista ok? benissimo andiamo a vedere effettivamente che cosa è successo perché il mese di maggio effettivamente ce l'abbiamo qui e che cosa effettivamente vediamo? vediamo che questo è eurofranco quindi anche in questo caso quando scende significa che è il franco svizzero che sta guadagnando valore vediamo che proprio a partire da questo periodo che abbiamo visto prima il cambio si è comportato esattamente come si è comportato mediamente negli ultimi 5 anni ve lo faccio rivedere vedete che troviamo esattamente lo stesso andamento che troviamo negli ultimi 5 anni mediamente quello che abbiamo appena fatto è stato applicare la stagionalità ad un mercato finanziario quello dell'eurofranco in poche parole facendo tutti questi calcoli che cosa ci siamo accorti? ci siamo accorti che il cambio eurofranco in particolare visto che ne stiamo parlando adesso tende a muoversi più o meno allo stesso modo negli stessi periodi dell'anno e quindi quello che abbiamo fatto è stato creare una sorta di google trend come vi ho fatto vedere prima con i regali di Natale ma per appunto il cambio eurofranco che è quello appunto che sul sito cambiavalute.ch diamo la possibilità di cambiare ai lavoratori frontalieri a tutte le persone che hanno bisogno di una o dell'altra valuta quindi la primissima cosa che possiamo fare è cercare di capire guardando le tendenze appunto come potrebbero muoversi come potrebbe muoversi il cambio nei prossimi mesi e quello che vediamo è che per esempio abbiamo di fronte a noi vedete che questa è la linea della data di oggi che volendo potete anche spegnere qualora voleste spegnere però quello che vediamo appunto è che a partire appunto dalla data di oggi o comunque in questo periodo abbiamo di fronte a noi un periodo diciamo abbastanza piatto dove il cambio eurofranco non ha una tendenza ben ben specifica ok questo appunto già a partire dalla metà di agosto dopodiché ci accorgiamo che a partire dall'inizio di novembre tendenzialmente quello che è successo mediamente negli ultimi cinque anni è che comincia proprio un periodo in cui come vediamo c'è una tendenza marcatamente ribassista ribassista ve lo ricordo non vorrei che vi confondiate significa che il franco svizzero si apprezza ok tra l'altro se evidenziate il periodo che vi interessa scorrendo in basso nella pagina troviamo proprio anche tutte le statistiche per esempio dei mesi e qui vediamo come per esempio agosto media il 60 per cento degli agosto degli ultimi cinque anni sia stato un mese negativo per il franco svizzero tendenzialmente negli ultimi cinque anni c'è stato un guadagno diciamo dell'euro sul franco svizzero al contrario settembre per esempio negli ultimi cinque anni l'ottanta per cento delle volte ha visto il franco svizzero guadagnare appunto contro l'euro queste sono tutte statistiche che volendo potreste divertirvi ad utilizzare appunto per cercare magari di ottimizzare un po' di più il vostro il vostro i vostri cambi vediamo anche per esempio un dato molto interessante abbiamo visto qui appunto che per esempio negli ultimi cinque anni ecco qua in questo periodo di tempo c'è una marcata c'è stata una marcata tendenza ribassista infatti che cosa andiamo a vedere vediamo che questo software ci restituisce anche un interessante percentuale ci dice anche mediamente negli ultimi cinque anni di quanto è salito il franco svizzero e in questo caso vediamo appunto che mediamente il franco svizzero è salito del 4% nel periodo che abbiamo selezionato ok? ovviamente ragazzi che siete collegati se avete domande fatele non vi vergognate perché sono qua appunto per cercarvi di spiegare questo tool che è molto interessante molto anche divertente se vogliamo perché ovviamente il consiglio spassionato che vi posso dare è cambiate i vostri franchi svizzeri in euro viceversa quando vi servono però diciamo che visto che abbiamo a che fare tutti i giorni o quantomeno tutti i mesi con il cambio potrebbe anche essere interessante capire un pochettino cosa è successo in passato per vedere se può esserci utile anche in futuro quindi davvero qui abbiamo tutte le statistiche e non solo possiamo anche andare a vedere volendo i giorni della settimana però qui si andrebbe un po' troppo forse sulla speculazione che ovviamente è qualcosa che in questa sede non ci interessa però possiamo andare per esempio ad aggiungere dati allo storico ok in questo caso per dire proviamo ad aggiungere i dati degli ultimi sette anni aggiungiamo anche i dati degli ultimi dieci proviamo a vedere questa tendenza che noi abbiamo individuato negli ultimi cinque anni che abbiamo visto bene su questo grafico ecco qua che addirittura ecco va avanti fino appunto all'agosto all'agosto successivo esiste anche se invece di cinque anni guardiamo gli ultimi sette anni e sembra proprio di sì chiaramente cambia un pochettino perché andiamo ad aggiungere dei dati ma vediamo che tendenzialmente questo trend al ribasso che ripeto mi odierete alla fine del webinar significa che è il franco svizzero che sale esiste anche se invece che cinque anni ne utilizziamo sette ok se invece che sette anni ne utilizziamo dieci esiste ancora questo trend sì esiste e tra l'altro questo pezzettino qui dove c'è un grosso crollo se lo ricorderanno magari chi lavora appunto in Svizzera da tanto tempo e quando nel lontano 2015 il franco svizzero salì appunto tantissimo perché la banca centrale svizzera tagliò tolse diciamo quello che veniva chiamato floor diciamo e tutto il mondo si precipitò appunto ad acquistare franco svizzero momento storico molto interessante per chi lavorava al tempo in Svizzera e viveva in Italia perché in veramente letteralmente pochi secondi ci siamo trovati con una valuta in mano che valeva molto molto di più e ci fu la corsa ai baracchini per accaparrarsi appunto dei franchi svizzeri che overnight quindi durante la notte erano diventati estremamente vantaggiosi rispetto all'euro quindi vediamo che nonostante abbiamo utilizzato prima uno storico di 5 anni adesso stiamo utilizzando uno storico di 10 questa tendenza c'è ancora questo significa appunto infatti vedete che poi le medie mensili si sono aggiornate vediamo che per esempio settembre nonostante abbiamo aggiunto dei dati nell'ultimo appunto negli ultimi 10 anni l'80% dei mesi di settembre è stato ribassista per il cambio eurofranco quindi vuol dire che negli ultimi 10 anni l'80% dei settembre è risultato positivo per il franco svizzero è salito il franco svizzero in settembre ok qui avete tutti tutti i dati ok tra l'altro poi ovviamente si è aggiornato anche qui vediamo una cosa molto interessante che se nel periodo che abbiamo selezionato negli ultimi 5 anni c'è stato un rendimento quindi il franco svizzero è salito nei confronti dell'euro del 4.9 se facciamo lo stesso calcolo sugli ultimi 7 anni il franco svizzero è salito del 4.3 e se facciamo lo stesso calcolo sugli ultimi 10 anni il franco svizzero mediamente è salito del 4.7 quindi vedete che nonostante stiamo ragionando con uno storico di diversi anni il rendimento del franco svizzero ovvero quanto è salito il franco svizzero rispetto all'euro in questo specifico periodo di tempo è più o meno sempre lo stesso quindi vuol dire che cosa? che abbiamo trovato un periodo in cui c'è una certa regolarità e a questo punto qualcuno di voi magari mi dirà sì, grazie questo qui alla fine è una tendenza ok? come facciamo magari ad avere un po' più di indicazioni a sapere se c'è una giornata più interessante una settimana più interessante di un'altra per eventualmente cambiare il nostro stipendio benissimo anche qui possiamo fare una cosa molto interessante che vi faccio vedere tra l'altro vi vorrei far notare come per esempio appunto a partire dalla metà di agosto fino al periodo che stiamo vivendo adesso poi effettivamente il periodo che tecnicamente in finanza viene chiamato di lateralità effettivamente c'è stato e appunto adesso magari cercheremo anche di capire cosa ci possiamo aspettare nelle prossime settimane vedete che proprio a partire dalla 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 fine dalla fine di luglio abbiamo avuto questo periodo laterale che ben si vede appunto all'interno del 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 forecaster eccolo qua se diciamo vogliamo fare addirittura qualcosa in più oltre che a vedere le tendenze possiamo aggiungere come abbiamo già fatto prima appunto le statistiche a 5 7 10 anni io dico la verità raramente utilizzo per questo tipo di operatività anche le statistiche che vanno oltre i 20 anni nonostante ce li abbiamo perché diciamo che in 20 30 anni sono cambiate tante cose quindi tendenzialmente rimango utilizzando sempre da 5 a 15 anni ok cosa faccio andiamo a togliere i trend quindi non voglio più vedere appunto i trend ma voglio vedere quali sono i periodi diciamo le settimane o i giorni in cui è più probabile che ci sia per esempio un minimo o un massimo all'interno del nostro storico ok quindi per esempio se andiamo a prendere appunto il grafico vediamo che una volta che andiamo a togliere il trend di fondo appunto a questi dati storici non sto a entrare in tecnicismi che spiegano come è possibile questa operazione ma poi se vorrete approfondire eventualmente si potrà fare in un'altra sede ma semplicemente con una formula matematica abbiamo eliminato il trend di fondo che cosa ci accorgiamo ci accorgiamo che togliendo il trend di fondo intanto i movimenti del cambio euro franco vediamo che effettivamente sono tutti molto simili nonostante la linea blu raccolga 5 anni di dati e la linea verdina raccolga 15 anni di dati nonostante ci sono 10 nonostante ci siano 10 anni in più di dati vediamo che i movimenti sono gli stessi ma soprattutto quando andiamo a togliere il trend di fondo la cosa interessante sono i minimi i punti di svolta se noi andiamo per esempio qui ci accorgiamo che lo vediamo proprio dal grafico intorno alla metà qui siamo lo vedete al 15 di agosto intorno al 15 d'agosto storicamente il cambio eurofranco ha fatto un minimo significa che storicamente il franco svizzero da questo momento ha perso terreno nei confronti dell'euro ok andiamo a vedere andiamo a vedere sul grafico e vediamo per esempio che questa è esattamente la metà di agosto e ci accorgiamo che anche quest'anno ok la metà di agosto è stata un momento in cui anzi ve lo faccio vedere con tecnicamente si dice un time frame più basso eccolo qua dov'è 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 eccolo qua guardate qua questo qui è appunto dov'è oh perfetto ecco qua questa è la metà di agosto si vedeva meglio prima scusate ecco qua qui siamo alla metà di agosto provo a ecco qua e che cosa vedete vediamo che effettivamente esattamente come storicamente mediamente è sempre successo utilizzo queste parole perché voglio assolutamente che passi il concetto che non stiamo prevedendo il futuro ma stiamo semplicemente utilizzando delle statistiche sul passato molto semplicemente vediamo che effettivamente anche quest'anno 2023 è successo una cosa che storicamente è successa tante volte su questo cambio quindi in questo momento voi vedete il grafico che è salito tanto vuol dire che il franco svizzero è sceso ok cosa è successo poi andiamo di nuovo sul forecaster vediamo che il franco svizzero tendenzialmente tra alti e bassi cosa dovrebbe fare dovrebbe segnare una diciamo storicamente ha segnato un periodo di massimo nel intorno alla metà di settembre e da lì ha ricominciato il franco svizzero a guadagnare terreno quindi in questo caso per esempio cosa potremmo aspettarci beh potremmo aspettarci che proprio intorno alla metà di settembre ovviamente qui le date ragazzi sono da prendere con le pinze come le stagioni calcolando la stagionalità sui mercati finanziari non possiamo immaginare che la primavera cominci sempre un giorno preciso a volte inizia con qualche settimana di anticipo a volte con il ritardo è la stessa cosa sui mercati finanziari però in questo caso diciamo che se io avessi una cifra importante da cambiare ok quindi una volta che ho cambiato i miei franchi svizzeri per fare la spesa e mandare i miei figli a scuola a scuola ho un gruzzoletto sul quale voglio provare ad ottimizzare meglio il cambio ecco quello che farei in questo momento è aspettare aspettare perché perché abbiamo visto che con buone probabilità o meglio in passato storicamente in questo periodo i prezzi sono saliti quindi vuol dire che il franco svizzero è sceso ok e poi ha iniziato di nuovo a scendere quindi casomai facciamo una piccola scommessa tra di noi senza giocarci nulla assolutamente di soldi ma secondo quello che si vede qui appunto è probabile che ci sia un periodo nelle prossime settimane barre mesi in cui dopo aver segnato un massimo ovvero un minimo per il franco svizzero ci sia di nuovo un periodo favorevole per il franco svizzero quindi tendenzialmente se oggi io avessi un gruzzoletto ripeto che voglio magari provare ad ottimizzare a cambiare meglio ecco quello che farei appunto è magari aspettare e aspettare che i prezzi addirittura scendano sotto questo livello qui quindi la buona notizia secondo quantomeno la statistica è che il periodo positivo per il franco svizzero dovrebbe continuare e insomma spero che vi sia vi possa interessare magari questo strumento dopo averci preso un pochettino la mano possa diventare uno strumento interessante magari che vi faccia fare quattro chiacchiere davanti alla macchinetta del caffè in in azienda non so se ci sono domande vediamo esatto Giuseppe dice nel mio caso che cambio sempre euro conviene approfittare adesso del cambio esattamente esattamente o meglio ancora appunto se proprio vuoi esagerare aspettare questo famoso rialzino di cui abbiamo parlato che dovrebbe culminare secondo la statistica a metà settembre perché poi i prezzi tornerebbero a scendere e di conseguenza vorrebbe dire che il franco svizzero vale di più dell'euro sta guadagnando valore in questo caso tu ottimizzeresti perché se appunto hai franchi e cambi in euro chiaramente in questo caso hai euro e cambi in franchi scusa in questo caso i tuoi euro varrebbero di più rispetto ad oggi quindi bene sono contento che sia passato il concetto se ci sono altre domande fatemele ripeto questo è uno strumento che non vuole e non può predire il futuro semplicemente ci racconta cosa è successo in passato e ci fa vedere se in passato ci sono dei momenti e dei periodi in cui è successo spesso la stessa cosa ok tra l'altro questo sul questo strumento sul sito di cambiavalute è gratuito avete tutte appunto le tutte le le stagionalità potete utilizzarlo assolutamente in maniera completo tenete presente che questo software è preso l'euro franco è stato preso dal software forecaster punto bits che è appunto uno dei siti del del nostro gruppo eccolo qua per chi vedrà la registrazione ve lo vi lascerò il link in descrizione e tenete presente che quello che abbiamo fatto con l'euro franco è possibile farlo con tutti gli strumenti finanziari del mondo per esempio vi interessano non lo so le azioni di amazon ecco amazon le trovate eccole qui e potete fare esattamente gli stessi ragionamenti ed esattamente gli stessi calcoli che abbiamo fatto appunto con il cross euro franco spoiler tra l'altro sulle azioni funziona tanto tanto bene perché la stagionalità è un qualcosa di molto molto presente tra l'altro appunto è possibile anche in questa versione qui dove ci sono tutti gli strumenti del mondo anche salvarsi gli studi preferiti perché appunto se ci sono dei periodi particolarmente interessanti su dei particolari titoli insomma voi potete anche salvarvelo bene ragazzi io tra l'altro vi ricordo che all'interno del del sito di cambiavalute da poche ore da pochi giorni è stata attivata l'opzione invita i tuoi amici guadagni praticamente cliccando su questo link che trovate proprio nell'home page quando andate a richiedere un cambio questo è il mio profilo anch'io sono cliente del di cambiavalute trovate appunto o un codice o un un QR code o addirittura comodissimo il condividi su whatsapp che manda direttamente un link a un vostro amico un vostro contatto un vostro conoscente qualora questa persona poi cambiasse almeno 3000 franchi guadagnate voi e lui 25 euro tutto in automatico una cosa molto molto interessante che premia le tante persone che già stanno parlando di cambiavalute perché devo dire che il grosso della nostra clientela è sempre arrivata tramite il passaparola di conseguenza ci è sembrato giusto anche premiare le persone che tante volte parlano bene di noi quindi vi ricordo questa cosa fatela se avete magari dei nuovi colleghi piuttosto qualcuno che ancora non cambia con noi condividendo appunto questo questo il vostro codice personale potete guadagnare 25 euro voi e lui bene ragazzi io vi ringrazio per aver partecipato a questo webinar il tool della stagionalità lo trovate appunto qui nella voce tool stagionalità utilizzatelo e fateci sapere se magari siete riusciti a sgraffignare qualche punticino in più sul cambio euro franco un po' sgraffignare un po' Grazie a tutti.